Marco, ce la fa a vincere l'Oscar? Che dici? Io? Chi? Beh, io ho fatto vincere l'Oscar a Cinema Paradiso. Avrò contattato un migliaio di persone nel 90 e ha vinto. Walter, hai visto il catering? Il catering? Lo vedo passare. Meglio qui che all'Isola dei Famosi? Meglio, beh, dici, sapete, perché all'Isola dei Famosi non c'è la catering. Cos'era, un assegno? L'assegno dei 10 milioni di dollari. Lei è Giovanni Rana? No, no. Hai piaciuto il caffè? Eh, per forza, no? Quanti ne abbiamo serviti? Eh, stasera facevo 200 o qualcosa. Caffè italiano, eh? Sì, sì, solamente. Perché è quello americano, possiamo dirlo. Ma lascia perdere quello americano. Meglio il Fais del Serremo o gli Oscar? È il lavoro in tutti e due i casi, quindi... Ma comunque si sgobba, dici? Mi pare che sia inevitabile. Mi pare che sia inevitabile. Hai piaciuto? Sì, ovviamente. Quale è il tuo preferito? Il tuo preferito. Questo e il... E il creasso. E il creasso. O il... Ok. Non ho notizie fresche dall'Italia. Mi dispiace. Però forse giocherà Totti in mezzanale. Non torni più in Italia, vado. A tornare i miei figli. A tornare mia mamma, io e papà. Magari... Magari in estate. C'è il cervello in fuga ormai. Dai, mica sono il primo. Sai quando ce ne sono i cervelli in fuga? Purtroppo... Ciao. Hai mangiato? Si sono mangiati tutto, eh? Si sono mangiati tutto. Ma non avete mangiato niente voi, no? No, abbiamo mangiato pure noi. Dice... Non ti chiedo che cos'è la grande bellezza per te, no? Non me lo chiedi. No, no. Grazie.